Sopra il luogo degli studenti dell'istituto di istruzione superiore e felice al dirisio di Stigliano lungo la spiaggia di Metaponto per scoprire gli effetti dell'erosione costiera e i tentativi di frenarla messi in campo dall'uomo. Nella mattinata di sabato alcune classi della scuola stiglianese accompagnate dalle docenti Maria Teresa Falbo, Carmela Maffè ed Antonella Cospito hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano le conseguenze dell'azione marittima sulla costa sabbiosa dell'Ido Metapontino, ma soprattutto hanno potuto riflettere sulla realizzazione degli interventi di difesa della spiaggia, come ad esempio le barriere soffolte, scogliere artificiali parallele alla litoranea, che hanno lo scopo di dissipare l'energia del motondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne in ritorno. A spiegare le caratteristiche di questo intervento l'ingegnere Cosimo Grieco, funzionario della regione Basilicata. L'intervento seguito qui a Metaponto è un intervento di mitigazione dell'erosione costiera mediante opere di difesa che sostanzialmente sono delle barriere soffolte, che hanno una dimensione, lo sviluppo dell'intervento è di circa 2,2 km. Le opere sono realizzate con massi naturali, con una sezione trapezia, con lo scopo di abbattere l'energia del motondoso per ridurre il fenomeno erosivo dovuto all'azione marina che erode la costa. I ragazzi hanno posto delle domande, sembrano interessati all'intervento, a come si sviluppa e come vengono spesi i soldi pubblici e a quali risultati poi l'intervento possa dare alla comunità. I ragazzi coinvolti nella visita a Metaponto partecipano al progetto di alternanza scuola-lavoro Open Coesione, dedicato all'analisi dei dati aperti e all'importanza del processo di trasparenza nella pubblica amministrazione. In particolare hanno creato il gruppo di lavoro The Bay Watches proprio per capire come sono stati utilizzati i FOM di 3 milioni di euro dati dall'Unione Europea stanziati per combattere l'erosione costiera. A spiegare meglio gli aspetti di questa iniziativa la professoressa Carmela Maffei, referente del progetto di alternanza di scuola-lavoro. Si tratta di un progetto di monitoraggio civico per sviluppare alcune competenze trasversali nei ragazzi, in un ultimo quello di cittadinanza attiva. Nell'ambito di questo progetto i ragazzi potevano scegliere su Open Coesione o su Moniton dei progetti da monitorare che hanno avuto accesso a finanziamenti europei. Noi siamo presenti con tre gruppi, questo gruppo che si occupa dell'erosione costiera, un gruppo che si occupa di Natura 2000 e l'altro gruppo che si occupa di un progetto del comune di Stigliano riguardante le biblioteche. Noi avevamo bisogno di progetti per l'alternanza scuola-lavoro, noi abbiamo questo cappio delle 150 ore negli istituti professionali e abbiamo un grande limite territoriale che è quello delle aziende che ci possano ospitare per sviluppare competenze diverse nei ragazzi. Diciamo che loro hanno risposto positivamente perché hanno sperimentato anche metodologie diverse, tipo lavoro di gruppo, hanno sviluppato quelle competenze che una scuola o un insegnamento troppo curriculare non può sviluppare. Positivamente perché in loro poi è nata anche questa coscienza civica del monitoraggio.